Olimpiade di Sochi sta iniziando la finale dei 1500 metri dello short track dove c'è anche la nostra Arianna Fontana, Emilio Mancuso. Sì, proprio così, tra pochissimo è la via della finale A dei 1500 metri con Arianna Fontana che dopo l'argento nei 500, la sua gara si è qualificata poco fa per questa finale, la finale A, con il miglior tempo nella sua batteria 2.19.36 da tenere d'occhio le due cinesi Zhu Zhang e Li Yanru, anche l'americana Scott, cominciata intanto la finale come detto dei 1500 metri, quinta per il momento Arianna Fontana, in testa c'è l'americana Scott e ci risentiamo tra pochissimo per il risultato finale. Torniamo subito allo short track appena finita la finale dei 1500 metri. Ed è arrivata un'altra medaglia per l'Italia, medaglia di bronzo per Arianna Fontana, seconda medaglia personale per Arianna dopo quella d'argento nei 500 metri, la nostra atleta in ginocchio, inginocchiata su se stessa ma ovviamente carica di felicità, short track, partinaggio di velocità, seconda medaglia azzurra di queste Olimpiadi, quinta in totale. Dunque il medagliere azzurro si gonfia ancora di più, cinque medaglie quando siamo a metà dell'Olimpiadi, Arianna Fontana che raccoglie l'abbraccio e le pacche sulla schiena del suo angolo, insomma davvero un momento incredibile per la Fontana.